La mia crema Iniziamo a pelare tre patate Le tre patate Poi Ecco qua Andolina E lo dobbiamo Tutte e tre Ok Risultato di tre patate Le dobbiamo Degliamo l'acqua Asciutta asciutta Ok Un po' di cebolla Aggiungiamo due uova Diamo 40 grammi Di farina di riso Un po' di sale E io ho messo l'aglio in polvere A cui si piace Fresco A questo punto A miscarmi tutto con E vado a fare la consistenza E vado a formare Un po' di cebolla Un po' di cebolla Un po' di cebolla Un po' di cebolla Tempo Facciamo una bella cremina Una bella maionese Speziata Ok 90 grammi di olio di semi Poi ho aggiunto 45 grammi di latte Un pizzico di sale Un cucchiaio di limone Two cl�� Anche Un po' di cebolla Un po' di cebolla Un po' di cebole facciamo cuocere un altro po' grazie